Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare un gioco, secondo me molto interessante, gioco che ho richiesto alla Genos Games, che tra l'altro ringrazio di cuore per avermene fornito una copia recensione e grazie ovviamente sempre, un grandissimo piacere, un onore collaborare con voi. Parliamo di Viticulture, senti la che pronuncia, ve lo dico eh, è l'unica volta che mi sentirete chiamarlo con il nome suo. Lo chiamerò Viticulture. Siamo in Italia ed è ambientato in Italia, è Toscana, e quindi lo chiamerò così. Quindi, gioco della Stonemaier, è portato in Italia e localizzato completamente dalla Genos Games. E devo dire la verità, è un gioco molto interessante, che avevo già adocchiato da diverso tempo, perché io, tra tante persone che magari a volte qualcuno ti può prendere in giro, ma anche puramente per scherzo, sono sempre stato una persona a cui piacciono i giochi... Sì, mi piacciono quelli frenetici, tipo Nemesis, tipo Alien, tipo Zombicide o giochi del genere, o anche Space Hulk. Però mi piacciono anche giochi calmi e rilassati, e soprattutto gestionali. Non sul computer, quanto più che altro sulla componente, gioco da tavolo o board game. E anch'io al computer, diverse volte, ho giocato con mia moglie insieme, abbiamo avuto un server nostro su Farming Simulator, perché sono giochi che comunque sono interessanti e non vuol dire perché sia un gioco calmo, alla fin fine in questo devi produrre il vino, che sia un gioco anche lento o mosso, anzi, tutt'altro. E secondo me, questo gioco, mio parere personale, mio cosa ne pensa al solito, non ha niente, niente, niente in meno di un altro gioco tipo Ever, dello cosa del genere. Perché è sempre alla fin fine una corsa verso il punteggio, e il primo che arriva a fare più punti, in questo caso, nel caso di Viticulture, arrivare a 20 punti, quel giocatore ha vinto. E saremo chiamati a essere dei fattori di contadini, a pigiare il vino, a piantare le viti, ovviamente nei vigneti, e a fare il vino per poi rivenderlo, passando tutte quante le stagioni che vanno dalla primavera all'estate, all'autunno, all'inverno, e questo gioco non ha dei turni. Il primo giocatore che arriva a 20 punti vincerà, quindi sarà tutto un comprare attrezzatura, comprare campi, comprare strutture, pigiare, ovviamente, l'uva, fare il vino, che potranno poi essere vini rossi, vini bianchi, vini rosati, e anche addirittura lo champagne, e venderli. E il giocatore, ovviamente, che avrà per primo raggiunto i 20 punti, o superati più o meno, sarà quello che vincerà. È un gioco da 1 a 6 giocatori, dai 14 anni in su, sì, ci sto, perché il tema trattato a un ragazzino non lo diverte, poi comunque qualche regolina particolare c'è, di una durata di 45-90 minuti, sì, più o meno ci può stare, almeno, secondo me, un'oretta, ci vuole tutto, ecco. Vi faccio vedere un po' come funziona. Unboxing, scatola del gioco, non è tanto grande rispetto alla mano, rettangolare, come dimensioni, è bellina, e questa è l'Essential Edition, che non vorrei dire una cavolata, mi sembra che sia la versione comprensiva o dell'espansione della Toscana, o comunque di cose aggiuntive. Soprattutto, c'è stata inserita anche la modalità automa, tra molte virgolette, per giocarlo in solitario, perché questo è un gioco tutto forché solitario, un gioco fortemente competitivo, perché ognuno avrà la sua azienda, però c'è appunto la possibilità, in questa edizione Essential, di giocarlo anche in solitario. Apriamo! Il regolamento di gioco, tra l'altro, seguito da un fottino, uno sbotto veramente di immagini, ed è la cosa migliore, perché regolamenti più semplici, anche magari complicati, con 300.000 regole, però se me le accompagni con delle belle immagini, perlomeno laddove, come dico sempre, non capisco la regola, l'immagine sicuramente, ecco, mi aiuta nel mezzo. Quindi, assolutamente fatto benissimo, e qua sotto, invece, c'è la guida rapida. Quindi, questa qui è una guida rapida, dopo aver letto il regolamento, ve la tenete accanto, così vedete come funzionano turni, che quali sono le strutture, soprattutto sognate, perché ci sono anche le strutture da piazzare, ognuna sulla propria azienda, sul proprio campo, e fattoria, e poi tutte quante le altre terminologie, tutto quello che c'è da sapere. Bustine, per conservare token, insomma, tutto quello che vi potrebbe servire all'interno del gioco, così che non vada a giro per la scatola. Le varie plance delle vostre aziende, che ogni giocatore dovrà averne una, e sono double fass. Dalla parte dietro, sono in inglese. Quindi, parte inglese, e da questa parte, invece, parte italiana. Le lire, nel taglio moneta, 1, 2, e 5 in fondo. Mi ci viene da piangere in questo momento, eh. Questa è una cosa che mi ha toccato il cuore, beh, i miei anni per davvero. Tabellone di gioco, che ora poi vi faccio vedere tutto quanto aperto, nel primo esempio di partita. Carte da gioco, padre e madre, praticamente, che sono, i proprietari della vostra azienda, ovviamente dovrete avere un padre, una madre, e vi serviranno per vedere nel setup iniziale, tanto poi ve lo faccio vedere, le strutture, le carte, e soprattutto i lavoratori che avrete in mano. Insomma, un bel mazzo. Carte, che sono carte vigneti, ci sono le carte vendita, questo qui è il mazzo di tutte le carte che avete. Uva, come vedete, Sangiovese, tipo, e poi ci sono tutte quante l'artere, con il simbolo del valore, se è bianco, se è rosso, poi ci sono le combinazioni per fare il rosè, e cose varie. Questi qui, sono i token di partenza, che questo verde, col simbolino dell'uva, rappresenta il primo giocatore, e poi questo qui, è il lavoratore, quello occasionale. È un lavoratore che non è mai dei vostri, però lo potete assumere, per farlo lavorare un anno intero, e poi a fine anno, lo potete andare a richiamare, oppure lo potete lasciare a casa. E i vari colori, a seconda dei giocatori, dove vediamo all'interno tutte quante le strutture, che il giocatore, col suo colore, può andare a posizionare, e poi qui c'è un contadino, o un lavoratore grande, che sono quelli che hanno azioni particolari, che poi vi faccio vedere, durante appunto, lo svolgimento del turno. E poi, questi qua giù, che sono token, che servono per segnare, l'uva, e il vino. Praticamente, il vino, messo nelle botti, e messo dentro, cantine, e poi, per metterlo, su tutti quanti i vostri, sull'uva, che state pigiando, quindi che sia un'uva bianca, o un'uva rossa. Vi faccio vedere un po' come gira un turno. Questo che vedete, è il tabellone di gioco. Poi, la piccola scheda, della vostra azienda, che ogni giocatore ne ha una, ve la faccio vedere successivamente. Questo è il tabellone di gioco, dove farete, tutte quante le vostre azioni. Ora, i piolini, qua giù colorati, facciamo conto, che questa sia una partita, a quattro giocatori, ma lo potete tranquillamente, giocare anche in due, cambia qualcosina, ma vi faccio vedere, poco alla fin fine del zucco. Comunque, questi piolini, qui colorati, sono i colori, che dovete mettere, all'inizio del tracciato, quindi su inizio. Perché vi ricordo, che il gioco finisce, quando il primo giocatore, il primo contadino, arriva a 20 punti, arrivato a 20 punti, si fa ancora un turno, che il turno è praticamente, un anno di lavoro, e al momento, che finisce il turno, se lui è sempre, quella ad avere più punti, aver superato il 20, vince la partita. Quindi, ipoteticamente, potrebbe essere ancora superato, o lui stesso potrebbe arrivare, ad avere, che ne so, 25 punti. Ogni anno, è diviso in quattro fasi, che poi vedete qua giù, che sono la primavera, l'estate, e l'inverno. Nella prima, e poi vabbè, tutte le carte che sono qua su in cima, che ora poi vi vado a descrivere. Comunque, nella prima, che è la più importante, la primavera, all'inizio, prendete i quattro galli, da mettere qua giù, per far vedere l'iniziativa, colorati, mischiateli, che non si vedano, e ne tirate fuori una a caso. Così saprete, che quel giocatore, nel primo turno di gioco, ma nel primo e primo soltanto, avrà il token, del primo giocatore, che è l'uva verde. Quindi, il verde deciderà, dove mettersi sull'iniziativa. Banale dirvi che, più ti metti in alto, più agirai per primo. Quindi, se lui decidesse di mettere il suo gallo, nel primo posto, l'avrà occupato, e si muoverà per primo. Quindi, il giocatore, col gallo verde, si muove per primo, direttamente. Quindi, la prima azione del gioco, la farà lui. E in questo gioco, chi prima arriva, meglio alloggia. Però, come vedete, non gli dà niente. Se invece, si mette sulla posizione 2, piscano a carta verde. Se si mette sulla posizione 3, piscano a carta viola. Che poi le lire sono queste qua giù, ve le faccio vedere nei tagli colorati. Quindi, una lira, due lire, e cinque lire. Quindi, mettendosi qua giù, pescherebbe una lira. Oppure, andando qua giù, vedete quando c'è o, è una scelta ovviamente. Quindi, o una carta dorata, o una carta blu. Qui, invece, se andasse sul 6, prenderebbe un punto a vittoria, direttamente. Quindi, già sul tracciato, lui si andrebbe a spostare. E andando in fondo, invece, potrebbe assumere un dipendente che farà, lavorerà soltanto per l'anno. Quindi, un dipendente temporaneo, che poi, una volta utilizzata a fine anno, andrà via. Però, comunque, avrà sempre una forza lavorativa più grande. Mettiamo caso, quello verde decide di mettersi sull'1. Quello giallo, che si muove dopo, sul 2. E, quell'arancione, qui, e questo qua giù. Quindi, il verde si muoverà per primo, il giallo per secondo, l'arancione per terzo, e il bianco sul quarto. Prima di iniziare la partita, come vi ho detto precedentemente, dovete andare dai due mazzi, che sono questi qui. Il mazzo padre, e il mazzo madre, a pescare, casualmente, due carte, una e una. Le andate a pescare, casualmente, le girate, quindi lo fate per tutti i giocatori, ora vi faccio vedere il setup di uno, e al momento che le andate a girare, vi dirà, quali saranno i vostri bonus di partenza. Quindi, la madre, come vedete qua giù, mamma e papà sarebbero, la madre ti dà due lavoratori, quindi, io prendo sempre l'esempio del giocatore verde, da ora in poi. prende già due lavoratori di partenza, più due lire, quindi ha anche due lire, che si mette dalla sua parte del tavolo, una carta gialla, che pesca dai mazzi qua su in cima, quindi una carta gialla, e una carta viola. Questo è quello che gli dà la mamma. Invece, il papa gli dà quattro, come vedete, monete, quindi ne può prendere altre due, quindi ha all'inizio una riserva di sei lire, poi un lavoratore grande, che è questo qua giù, che è il lavoratore grande, è quello più importante, perché può fare un'azione molto particolare, come se fosse tipo il contadino, il fattore, o comunque una figura molto importante, dell'azienda vinicola. Quindi questo, è quello che sta prendendo da queste due, più c'è una scelta, o prende una struttura, che in questo caso è un pergolato, o prende due, ad esempio altri due lire. Lui potrebbe dire, no va bene, a me a questo punto mi serve il pergolato, e quindi prendo il pergolato. Una volta fatto il setup di tutti i giocatori, queste carte le scartate, perché tanto a fine del gioco non servono a niente, le rimettete nei rispettivi mazzi, e i giocatori hanno la loro cosa di partenza. Questo vi ricordo il token del primo giocatore, che al momento ce l'ha il verde, quindi il giocatore verde ha tutte queste cose, più queste carte, che ora vi vado a descrivere cosa sono. Le carte verdi, queste qui sono le carte vite, quindi tutto quello che dovete andare a pescare, per piantarle nelle vigne. Quindi se volete fare il vino, dovete andare a pescare da questo mazzo. Le carte gialle qui accanto invece sono le carte visitatore estivo, sono i visitatori che vengono nella vostra azienda, e vengono anche a darvi manforte a lavorare, o a visitare la vostra azienda. Le carte viola sono le carte ordine di vino, quindi se volete vendere il vino per forza di cosa, almeno che non usiate quest'azione qui, ma che serva poco o nulla, dovete avere una carta viola, per forza, quindi per vendere il vino dovete avere questo, per vedere le ordinazioni, mentre invece le carte blu sono il visitatore invernale. Quindi ricordatevi sempre che il gioco si divide in quattro fasi, come vi ho detto all'inizio, e questa è la fase principale, la fase della primavera. Arriva la fase dell'estate, dove noi bisogna semplicemente mettere i lavoratori nei cerchetti gialli, dorati, perché questa parte del tavolo, con i cerchetti gialli, è la fase dell'estate. Questa qui, celestina o comunque blu, è la fase dell'inverno. Regola vuole che con una partita, un giocatore, dovete usare solo il cerchetto più esterno, quindi a sinistra. In una partita a due giocatori potete usare anche quello centrale, in una partita a tre o più giocatori li potete usare tutti e tre. Siccome noi stiamo simulando le regole di una partita a quattro giocatori, li potete usare tutti. Sia chiaro che chi prima arriva in questo gioco meglio alloggia. È come l'azione pari pari di Everdale. Quindi le due carte che aveva pescato il verde all'inizio, sono un visitatore estivo, che poi dopo andremo a leggere cos'è, e da questa parte un ordine divino, che ci dice quanto verremo pagati, e quanti punti vittoria prenderemo. Però è un ordine, insomma, abbastanza difficile, perché ci chiede di consegnare un vino bianco di valore 2 e uno spumante di livello 8. Quindi quest'ordine divino per evaderlo sarà particolarmente difficile. Ah, regola vuole che ciascun giocatore può tenere in mano fino a 7 carte, non di più. Nello stesso turno ne può tenere anche 12. Però quando finisce il turno, l'anno inizia, l'anno lavorativo nuovo, dovrà per forza scartarne fino ad averne 7 in mano. Comunque, visto che il primo a muoversi è in ordine iniziativa il giocatore verde, il giocatore verde decide di mettere il primo lavoratore dove gli pare. Sia chiaro una cosa, quando mettete un lavoratore, che prima arriva meglio alloggia, perché se lo mette qui, prende il bonus che c'è scritto sotto, pesca una carta verde. Però se lo mette qui, becca il bonus che c'è scritto sotto, pesca una carta verde, ma in più ne pesca un'altra, vedete più. Quindi ne pescherebbe due. Quindi il giocatore verde dice, ok, a me all'inizio, mi serve per forza di cose, andare al mercato per comprare delle viti. Quindi metto un lavoratore normale qui e a questo punto qui pesco due carte verdi. Quindi andrà a pescare due viti dal mazzo verde e queste qui saranno le viti che lui potrà piantare nel vigneto. Sia chiaro che quando ci vedete dei simboli qua su in cima, vuol dire che serve anche questa struttura per andarla a piantare, che in questo caso qui sono il pergolato e l'irrigazione. Mentre di qua invece basta soltanto l'irrigazione e ti dà un'uva rossa di livello 3 e un'uva bianca di livello 4. Quindi anche questa le leva e se le mette nella sua mano. Ora tocca al giocatore giallo, che è il secondo successivamente, che prenderà uno dei suoi lavoratori e deciderà dove metterlo. Ricordatevi che tutti i giocatori hanno il lavoratore anche quello grande, che fa un'azione speciale. Lui potrebbe dire, ok, io visto che è appena iniziato il turno, facciamo conto che sia un turno un pochino più avanzato, potrebbe magari dire, vado qua giù perché ora voglio piantare. Se voi volete piantare nel vostro campo, dovete avere un lavoratore che lavori nel campo per piantare. E anche qui, se lo mette qui, può piantare, come vedete, una carta vite. Se lo mette qui, ne può piantare due, perché vedete c'è anche il bonus qua dentro. E tutte le attrazioni sono descritte. Ad esempio, se volete costruire una struttura, quindi a me serve il pergolato prima, anzi mi serve l'irrigazione. Per costruire l'irrigazione, per forza di osa, dovete andare qua giù. Se lo mettete qui, andate a costruire l'edificio sulla vostra mappa di là che vi faccio vedere dell'azienda, se lo mettete qui, avete anche una lira. Quindi se lo mettete qui, che prima arriva meglio alloggio e così va, e tutte le attrazioni che potete fare nell'estate, che nella parte gialla. Addirittura, se andate qui, automaticamente potete aver venduto qualcosa che avevate e vi costa uno. Occhio, l'unica cosa è che, quando andate qua giù, pescate invece carte viola, che è in questo negozio qua giù. Quindi andando qui, pescate o una carta viola, o una carta viola, o due carte viola, che sono quelle dell'ordine. Quindi pescando una carta viola, voi avete un ordine di vino, che nel caso è quello che vi ho fatto vedere prima, e dovete rispettare tutto quello che c'è scritto, se no ovviamente non potete evadere l'ordine. E una volta che avete preso la carta e magari avete preparato il vino e lo dovete vendere, dovete andare invece nell'azione che c'è qua giù in fondo, evadi. Se andate qui, fate la vendita dell'ordine. Se invece andate qui, quando vedete sempre questo simbolo, questo numero, con due cerchi intorno, un interno viola, e un esterno bianco, vuol dire che prendete punti sul tracciato. Quando andate qui, nel caso che abbiate tutte quante le cose richieste, quindi un vino bianco di livello 3 e uno spumante di livello 8, potete evadere il vino, lo andate a vendere, prendete 2, qui vedete, prendete 2 lire e 6 punti vittoria. E ricordo che vince i giocatori che per prima arriva a 20. Quindi queste sono tutte le azioni che voi potete andare a fare sul tabellone, seguendo l'ordine sempre di come l'avete messi i galli in iniziativa, e soprattutto per il fatto che vi dovete muovere una alla volta, quindi un contadino, un contadino, un contadino, un contadino, fino a che tutti non hanno passato o posizionato i loro contadini e si va allo step successivo, alla stagione successiva. Completano le regole di questa cosa, vedete, il lavoratore, quello grande, che è tipo il doppio, più o meno una volta e mezzo, quello normale, che lui, se vi faccio l'esempio, se questa zona qui è occupata, ok? Questa zona qui è occupata e questa zona è occupata, voi, fino a che non passa un anno intero, non la stagione, ma un anno intero, non potete andare al mercato per comprare le viti. Invece, il lavoratore grande si può mettere anche fuori dal cerchio, nella zona, quindi mettetelo qui vicino o sopra, dove vi pare a voi per ricordarvi che è nella zona, e può comunque prendere il bonus della zona, ma mai ovviamente il bonus che c'è qui, perché era già stato occupato. Quindi nel caso questo fosse tutto pieno e il lavoratore verde avesse bisogno di una vite, qualcosa da piantare, lo può mettere qui e comunque va a pescare una carta verde e la va a piantare. Poi, intanto vi faccio vedere ragazzi tutte le azioni di questo tabellone e poi vi faccio vedere quella sulla plancia del giocatore. Arriva, vi ho fatto vedere la fase della primavera, che è la fase praticamente quella di posizione all'iniziativa, la fase dell'estate che è quella appena descritta, la fase dell'autunno, ciascun giocatore pesca una carta visitatore e le carte visitatore sono, come vi ricordate all'inizio che vi ho detto, sono o le carte visitatore estivo o le carte visitatore invernale che sono queste qui. Potete pescarne, visto che si va, appunto, si sta andando verso l'inverno, uno potrebbe dire ne pesco un visitatore invernale perché si va proprio nella fase inverno e magari me lo posso giocare direttamente oppure potrebbe dire io non ho bisogno me ne pesco uno estivo e me lo tengo per la fase successiva. Quindi per il prossimo anno che passerà come inizia l'estate io c'ho già perché poi danno dei bonus non indifferenti questo qui non a caso vi faccio l'esempio di un estivo dice tutti i giocatori possono piantare una vite ottieni due lire per ognuno dei giocatori avversari che competa le azioni perché è una squadra di volontari che vengano a fare la stagione da voi nell'azienda vinicola e quindi vi danno dei punteggi non indifferenti e questa è praticamente la fase dell'inverno quindi vedete primavera è soltanto una fase veloce di passaggio e l'autunno uguale si passa nella zona dell'inverno nella stagione invernale dove potete iniziare a fare tutte quante le azioni in quelli blu che vedete qua quindi nella zona estiva si raccoglie perché è normale durante l'estate si va a piantare si va a seminare si va a pigiare l'uva e tutto quanto si va a fare il vino si va a stoccare nei magazzini nelle celle come vi faccio vedere mentre nella parte invernale si vanno a vendere si può andare a vendere una vigna di cui non c'è più bisogno si può evadere un ordine oppure andando qui che è un'azione importantissima andando qua giù in fondo si può mettendoci sempre un omino come vi ho fatto a vedere all'inizio o il lavoratore più grande nel caso non ci fossero posti si può pagare come vedete 4 però se andate qui guadagnate 1 quindi praticamente c'è uno sconto si può pagare 4 lire per addestrare un nuovo meeple quindi un nuovo lavoratore l'andrete a prendere dalla bustina e lo utilizzerete quindi praticamente avete nell'anno successivo non avete più 2 lavoratori ma magari ne avete 3 una volta addestrato non ce l'avete subito disponibile perché sta studiando e quindi ce l'avete dall'anno successivo questo qui è un conteggio di quando andate ad evadere il vino che ve lo faccio vedere subito poi ve lo chiarirò a breve quando voi andate a vendere il vino come vi ho fatto vedere vi arriva un ordine come quello di prima 3 di bianco e 8 di champagne qua giù vedete i punti vittoria che dovete magari se l'avete evaso quest'ordine qui 6 quindi il giocatore verde farà 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e va avanti nella sua corsa verso la vittoria in più le due lire che sono qui le dovete segnare qua giù in fondo devo fare i complimenti ai creatori di questo gioco perché anche i meeple sono belli da morire sono semplici però il fiaschetto giustamente il vino questo lo dovete mettere al centro quindi avete evaso l'ordine avete guadagnato due lire che non prendete immediatamente quindi non è che le prendete subito appena evaso l'ordine ma dovete spostare l'omino su questo contatore a seconda delle lire che avete guadagnato massimo 5 quindi lo spostate su 2 perché l'ordine evaso è 2 quando finirà l'anno e si passerà all'anno successivo ognuno prenderà il guadagno che ha avuto perché la paga praticamente a fine stagione lavorativa e quindi qui dovrete sempre tenere il conto e azzerarla al turno successivo quando finisce un anno completo di lavoro si toglie tutto dal tavolino non ci deve più essere niente l'unica tutti i lavoratori via non ci rimane nulla l'unica cosa che deve rimanere sono i punti vittoria e il lavoratore opzionale nel caso nessuno l'abbia preso che può fare un'azione come tutti gli altri il lavoratore occasionale deve essere rimesso a un fondo per essere lasciato disponibile a tutti quanti il token dell'iniziativa passa automaticamente al giocatore in senso orario quindi magari questa volta tocca al giallo e il giallo sarà il primo che deciderà l'iniziativa e il giallo dice basta stavolta mi voglio muovere per primo magari il verde si mette qui e così via e si arriva a fare un'altra volta l'ordine come vi ho fatto vedere precedentemente ora vi faccio vedere invece la plancia dell'azienda ora sulle vostre plancie qua giù ci sono segnate come vedete qua giù in fondo tutte quante le vigne quindi ciascun giocatore inizio ha tre vigne una di valore 5 sono carte praticamente che potete spostarci sopra una di valore 5 una di valore 6 una di valore 7 ovviamente queste vigne sempre anche l'azione che fate qui le dovete prima fare sul tabellone di gioco vi ricordo non è che potete scegliere di fare voglio andare a pigiare l'uva no ma se non hai messo nessuno a pigiare l'uva o a piantare non lo puoi fare quindi potete prendere una vigna se avete l'azione e venderla per guadagnare 5 lire poi nella stagione dopo in quella invernale la potete anche tranquillamente ricomprare nel caso abbiate bisogno e vedete qui accanto c'è il costo se volete comprare un pergolato ad esempio se volete comprare un'irrigazione se volete comprare una sala degustazione un gioco il gioco è un'azione delle più importanti perché ti permette di levare una vite piantata di rimuoverla perché se no una volta messa non le potete togliere soltanto col gioco vi dà l'azione di poterla andare a togliere e è l'unica azione dove dovete mettere un meeple non sul campo da gioco di tutti quanti quello in comune ma lo dovete andare a mettere direttamente qua sopra per ricordarcelo poi ci dà la casa colonica ci dà il mulino queste qui sono tutte quante cose che l'azione c'è scritta sotto che cosa vi dà ma soprattutto vi dovete ricordare che sono azioni che vi vengono richieste spesso e volentieri da una carta che mettete in gioco il valore che è scritto sulla vigna ci potete mettere viti del valore che vedete in fondo uguale o inferiore a quello che c'è scritto qui quindi avendocene messa una da 3 ce ne potrò mettere un'altra da 2 ad esempio o non posso metterci nient'altra perché il massimale è stato raggiunto ad esempio se dicessi ce ne metto uno rosso da 3 e ce metto dell'uva bianca da 4 andrei a 7 non ce la potrei mettere quindi tutta al più dovrei andarla a mettere sulla seconda però sempre se ho due lavoratori a piantare perché se no mi fa piantare come avete visto soltanto un'uva come vi ho fatto vedere precedentemente mettiamo che ce ne ho due dico questo lo metto sulla seconda vigna quindi ora vedete questi cursori qua su andate a prendere i cursori bianchi che vi ho fatto vedere all'inizio e quindi metto un'uva rossa sul 3 e poi metto un'uva bianca la vado a mettere sul 4 che è qua giù qui accanto vedete direttamente i prezzi di vendita quindi se vendete qualcosa da 1 a 3 1 da 4 a 6 invece 2 e poi da 7 a 9 3 questi qui centrali arancioni sono i prezzi di vendita queste qui sono le cantine che la cantina piccola ce l'ha chiunque arriva dal livello da 1 a 3 per bianco e rosso poi se volete un vino rosè dovete prendere la cantina media ma la dovete pagare vedete perché costa un costo e la cantina grande uguale però vi permette di fare vini rossi bianchi rosati e soprattutto champagne di livello massimo che è possibile nel gioco perché ora vi faccio un esempio se io con un'azione voglio trasformare la mia uva in vino ora qui vedete io ho un'uva di livello 3 che vado a spostare e la metto e diventa un vino in bottiglia di livello 3 spostare l'uva bianca che diventa un vino bianco di livello 4 la devo spostare qua giù ma non posso farlo perché io ho soltanto la cantina piccola e non ho la cantina media allora dovrò andare a spendere dei soldi per comprare nel caso una cantina media vado a spendere il costo se ho le monete e se ho l'omino nel campo generale perché le azioni vengono tutte da lì e compro la cantina media così mi permette di spostare un vino dal livello 4 a una bottiglia di livello 4 ora queste sono le azioni che si possono fare qua giù quindi c'è la pigiatura praticamente del vino e il vino imbottigliato pronto per essere venduto più tutte le altre azioni ve l'ho detto ad esempio il gioco vi permette di levare un vino dalla vigna direttamente per piantarne un altro nel caso non vi servisse e tutte le altre azioni sono elencate per la maggior parte se io volesse andare a piantare questo ad esempio mi chiederebbe ma ce l'hai l'irrigazione io l'irrigazione non ce l'ho quindi comunque prima di tutto dovrei andare a costruire un'irrigazione prima dovrei spendere 3 per andare a costruire l'irrigazione però mi chiede anche il pergolato questa parte di qua quindi dovrei andare a spendere altri soldi per mettere anche il pergolato che è questo di qua quindi al momento che avrò sia il pergolato che l'irrigazione io potrò andare a piantare vedete questa uva bianca di livello 4 e quindi imbottigliare un vino di livello 4 ora qui nella leggenda vi dice per fare un vino rosè ci vogliono un vino bianco più un vino rosso fanno un vino rosè per fare uno champagne che è quello che ovviamente paga di più dovete avere un vino bianco e due vini rossi fanno uno champagne quindi dovete fare ovviamente le combinazioni cosa importantissima quando finisce un turno quindi quando finisce il turno corrente con la stagione dell'inverno che chiude tutti quanti i vini invecchiano di uno perché ovviamente l'avete tenuto un anno e è un'annata che va a invecchiare quindi a rinvigorire e alzare ovviamente la qualità del vino stesso quindi dovete alzare tutto di uno dovete che ne so questo 4 diventa 5 questo 3 diventa 4 e soprattutto se avete anche delle viti qua giù vi ci metto magari dei cursori così per farle vedere un po' in a caso se avete delle viti qua giù in fondo anche queste invecchiano quindi l'1 diventa 2 il 3 ad esempio diventa 4 e boh magari c'avate un 5 bianco diventa un 6 perché il vino va a invecchiare queste sono tutte quante le azioni che potete fare invece direttamente sulla vostra plancia sempre ricordandovi di spendere soldi e soprattutto di aver messo i lavoratori nel punto giusto perché se a voi per fare un vino un'uva bianca quindi un vino bianco di livello 4 come vedete qui che quindi iniziate a guadagnarci buono quando andate a vendere tutto quanto ma dovete costruire il pergolato ok costruito ce l'ho vai devo avere anche l'irrigazione eh ma io non ho messo un lavoratore cioè in questo turno quest'anno non ho messo nessuno a costruirmi un'irrigazione e l'irrigazione non ce l'hai questo non lo puoi piantare quindi dovete sempre vedere per i requisiti che ci sono scritti ed è tutta una gara ovviamente ragazzi a chi vende prima e vende nel modo migliore quindi praticamente tutte le azioni che potete fare sono sempre descritte direttamente nemmeno il manuale ragazzi direttamente sul tabellone e vanno a rinvigorire e a darvi punteggi giocare i visitatori estivi solo ovviamente nella stagione estiva e i visitatori invernali solo in quella invernale poi anche qui ci avete la leggenda c'è scritto tutto ricordatevi che sul tabellone si va sempre in ordine di iniziativa dovete alzare il punteggio i soldi guadagnati con l'evasione quando vendete il vino li prendete solo a fine stagione perché quando finisce la stagione questo paga e quindi il vostro fiasco a seconda di dove si trova vi dà tante lire quant'è la location dove vi trovate il numero su cui vi siete fermati token del primo giocatore e azioni estive in giallo ed azioni invernali di qua poi ragazzi ve l'ho detto non voglio fare tutorial per quanto poi alla fine quasi quasi lo sono voglio darvi un'infarinatura però va sicuro che il gioco è veloce e il gioco è praticamente tutto qua il gioco ragazzi bene o male tutto qua in più c'è questo mazzo il mazzo automa che è una figata disumana e questa è veramente un'aggiunta che meriterebbe ve lo giuro l'acquisto se non fosse già comprensivo nell'essential edition perché vi permette di giocarlo in solitaria ci sono tutte quante le regole per giocarlo in solitaria quindi anche questa è una cosa bellina perché è un gioco che si fa bene anche in due vi dico la verità ci sono ad esempio quando giocate in due c'è una location sola quindi una volta presa sei finito non ce lo puoi mettere più il tuo meeple però ci puoi mettere il lavoratore quello grande che vi ho fatto vedere prima che invece va direttamente non nel tondino dell'azione ma proprio nell'azione della location stessa è un gioco veloce ragazzi è un gioco molto interessante è un gioco bellino ed è un gioco facile perché è molto strategico cioè devi pensare come muoverli però non sempre devi muoverli tutti quanti i meeple perché te potresti dire io le mie azioni le ho fatte passo il turno oppure vedo anche come si muovono i miei azioni però ricordatevi una cosa molto importante che se voi non mettete lavoratori voi volete esaltare completamente la fase estiva perché a voi non vi interessa ci avete già tutto il vino messo lì da parte ci avete già tutto piantato non me ne frega nulla io voglio andare direttamente nella fase invernale che è la fase dove il vino si vende quindi la fase commerciale però se poi dopo vi dimenticate qualcosa no avevo da piantare quella cosa no ora ho sbagliato perché non ho più carte oppure potevo andare a pescare una carta visitatore estivo visitatore invernale lì vi va a penalizzare grosso perché non potete una volta che una stagione è passata voi praticamente ve la siete bruciata ed è un gioco molto interessante è veloce poi in un'ora si fa perché ti sembra proprio questo gioco lo fai perfettamente se ti porti una bottiglia di merlot o qualcosa e te lo bevi mentre ciò dovete essere gonfi scherzi a parte è veramente bellino ti ci butta nel mezzo è molto caratteristico poi un bicchierino di vino ci sta anche bene magari mentre si fa una partita così magari al tavolino si scherza ed è molto divertente perché proprio ti fa sentire un contadino un'azienda vinicola che cerca di fare il vino migliore con le strutture migliori di investire bene il denaro perché poi nella fase invernale quando lo vai a vendere mi andrà a vendere un vino scadente che magari non paga nulla cioè hai lavorato tutto l'anno per cosa? per vendere un vino di livello 1 cercherai di venderti uno champagne ed è molto 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 bellino e come vi ho detto vince il primo giocatore che arriva a 20 e supera quando il primo giocatore che arriva a 20 magari quegli altri sono tutti quanti in corsa dà ancora un turno a tutti quanti la possibilità di superarlo da arrivare a secondi perlomeno e poi il turno di gioco il flusso finisce è un gioco veramente molto interessante e assolutamente se le devo dare un voto le do un 8 su 10 ed è tutto quello che mi aspettavo da un gioco del genere veramente bellino veloce piacevole anche da mettere a tavola e questo sì secondo me ora ragazzini troppo giovani si rompono magari le scatole a giocarci però questo da i 15 anni 13 anni 14 anni in su è un gioco che potete portare dove volete questo è il classico gioco che vende vende tanto perché lo potete mettere in qualsiasi tavolo e la gente la fate divertire anche chi come me io non sono appassionato di vino e aziende non ho mai comprato una bottiglia di vino in vita mia però mi piace mi piace proprio l'idea perché bellino è competitivo e poi la componentistica carte disegni meeple tabellone di gioco è fatto da paure è disegnato benissimo la componentistica è stupenda e quando aprite veramente la scatola fa un bellissimo effetto perché è piena zeppa di roba dentro quindi un 8 su 10 meritatissimo me l'ha proposto la Genos ma hanno mandato una lista dei giochi che volevo recensire c'era anche questo e devo dire che è veramente molto interessante anzi no è proprio bello e mi sono divertito da morire e quanto prima con mia moglie giocando in duo magari anche con il nostro amico Pippo ora vedremo un po' vi ci porteremo un gameplay quindi ringrazio di cuore la Genos veramente è un onore collaborare con voi grazie Cristina ovviamente ringrazio anche te per avermi mandato la copia di Viticulture Viticulture è ambientata in Italia quindi è Viticulture trovate il primo link in descrizione dove ordinarle va sicuro ragazzi è un gioielline questo è un classico gioco non per appassionati del settore ma dove lo mettete lo mettete e fate divertire fidatevi quindi merita veramente tanto fatemi sapere cosa ne pensate con un commento primo link in descrizione per acquistarle e tutti quanti i nostri social ciao ragazzi alla prossima annata